Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 20 marzo e San Giovanni Nepomuceno. Oggi è anche la giornata internazionale della felicità, un evento nato per ribadire che la felicità è uno dei diritti fondamentali dell'uomo. La felicità per alcuni è donare, per altri è lasciarsi andare, per altri è ancora successo. Difficilmente riusciamo a tenerla per più di qualche istante e quasi sempre ci accorgiamo di essere stati felici soltanto con il tempo. Insomma non è cosa semplice, difficile ancora di più immaginarla in periodi di crisi e di conflitti, ma va celebrata e incoraggiata sempre. La giornata ricorre il 20 marzo di ogni anno partendo dal 2013 stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi è anche la giornata nazionale della focaccia di Recco. E' la giornata internazionale dei ravioli, questo termine all'estero identifica qualsiasi pasta ripiena da a bollire. Tra i nati in questo giorno annoveriamo Spike Lee 1957 e Olly Hunter 1958. Tra i scomparsi ricordiamo invece Ilaria Alpi 1994, David Rockefeller 2017 e Isaac Newton 1727. Grazie a tutti.